Buonasera siamo qui con Gustavo Orlando che è stato il nostro chef questa sera a Fuoco e Tarme e la prima domanda è banalissima, ti sei divertito a fare queste ricette diverse? Molto, è stato veramente un piacere riscoprire i sapori antichi di una volta, è stato divertente e istruttivo, mi piace sempre imparare cose nuove a me. E poi un'altra domanda che è un pochettino ed è quella di dire come ha reagito la sala, questi ospiti che hanno mangiato una cosa che non si trova tutti i giorni, che sensazione ti ha dato? È stata una sensazione particolarmente piacevole perché ho capito che il buon cibo viene capito a prescindere. Quale piatto ti è piaciuto cucinare di più particolarmente? Assolutamente il timbalino di miglio, ho riscoperto dopo tanti anni, una volta facevo le polpettine di miglio e il miglio è qualcosa di particolarmente sfizioso a lavorare. Ho fatto anche il pane con il miglio perciò... Che era veramente gustoso? Molestamente sì, era molto buono. E dobbiamo anche ricordare che è dietro la telecamera che ci sta riprendendo, Maria Elisa Rossi... La grandissima Maria Elisa Rossi... Che è quella che ha costruito il nostro menù di questa sera e ci ha fatto fare questo viaggio... Con un aiuto, aspetta, diciamolo pure... Beh, insomma, diciamolo, diciamolo, che comunque è stata una bella collaborazione di questo viaggio un pochettino nella storia e nel gioco del gusto. Per Onda Libera TV, buona serata! Grazie a tutti!